buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qui su gaming galaxy oggi si parla di trucchettini per far salire le proprie skill quindi se non lo sapete in valen ci sono queste bellissime abilità o skill come si dice in gergo inglese e come si fanno a salire velocemente senza doversi smazzare migliaia di mostri migliaia di ore eccetera eccetera potete farlo fin dal primo momento e quindi possiamo iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale di lasciare un like o un commento al video e soprattutto se siete già iscritti di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati sui miei video che escono qua sul canale che magari vi possono interessare quindi perfetto eccoci qua siamo in una bellissima radura prima eravamo all'interno del mio villaggio che è esattamente lì vedete la mia torre del mago che cosa dobbiamo fare dobbiamo avere un masso quindi un masso piccolo grande che sia indifferente totalmente cercheremo un masso appena sporati nella nostra radura e andremo a costruirgli una casa attorno di queste dimensioni come vedete è abbastanza grande come 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 struttura entreremo nella struttura piazzeremo due fuochi uno a destra e uno a sinistra così da essere coperti al cento per cento all'interno della struttura un banco di lavoro un pavimento all'altezza dei due metri quindi esattamente dove finisce il muro dove noi possiamo infilarci sotto un sacco di pavimenti uno sopra l'altro e ovviamente al centro di questa bellissima casettina potremo avere il nostro masso questo perché questa struttura ci consente di fare una semplicissima cosa avere come vedete in alto a destra dello schermo quattro opzioni che è riposato a riposo riparo e fuoco dovremo avere queste quattro opzioni attive all'interno di questa casa perché così facendo avremo non solo il rec della vita 50 per cento che in realtà ci interessa ben poco la vita ma il rec della stamina in questo caso al cento per cento vuol dire che se noi ci fermeremo un secondo una volta che avremo finito la stamina potremo in quel caso recuperarla al cento per cento in pochi secondi che è quello che ci interessa bene perfetto che cosa ci serve il sasso beh allora iniziamo con le skill da attacco quindi mazze asce lance coltelli archi spade un armed quindi corpo a corpo in mani taglio legna e armi in estate questo refuso in estate scritto male immagino lo sistemeranno ma tutto ciò che praticamente noi possiamo brandire per colpire un avversario possiamo utilizzarlo contro la roccia per far salire la skill adesso ve lo faccio vedere noi abbiamo in questo caso le mazze come potete vedere questo è quello che mi manca per far salire di livello sono al 47 quindi io inizio a picchiarla malamente e sono salito di livello 48 questo vale per tutte vogliamo utilizzare le asce possiamo farlo alla stessa identica maniera la roccia ci darà zero vedete sono già salito di livello consumerà ovviamente l'arma che dovremo andare a riparare chiaramente dovrete utilizzare le armi base quindi quelle fatte di legno semplicemente legno e roccia così da poterle riparare qua al banco di lavoro se chiaramente utilizzate le armi come ce li ho io di black metal non potrete farlo vi servirà ovviamente una forgia qui per poterlo fare quindi in qualsiasi caso lo potete fare e tutte le armi che sono a parte il pickaxe quindi tutto quello che si usa per colpire un avversario o farmare alberi o di distruggere cose beh potete farlo attraverso il sasso il sasso non si romperà e voi alzerete la skill per quanto riguarda invece il pickaxe quindi per diciamo farmare quello che è il la roccia voi dovrete utilizzarlo su queste bellissime cose quindi io ho messo dei pavimenti uno sopra l'altro pickaxe funzionerà così dovrete colpire semplicemente le i pavimenti che voi avete messo uno sopra l'altro per far salire la skill in pratica è la stessa cosa della roccia ma ovviamente se noi usiamo pickaxe sulla roccia la rompiamo invece così facendo rompiamo al massimo dei pavimenti ci viene ridato il legno che possiamo riutilizzare per ricostruirli come ultima cosa dentro questa casettina potremmo anche far salire le tre caratteristiche che sono corsa jump e sneak quindi queste tre le potremmo far salire sneak è molto semplice andremo in sneak e continueremo a girare in tondo alla roccia quindi niente di più semplice la nostra stamina scenderà molto molto lentamente ovviamente in sneak chiaramente quando ci fermeremo la nostra bellissima stamina tornerà al 100% istantaneamente per quanto invece riguarda il jump quindi potete tranquillamente sfruttare questo trucchettino ok dopo che avete fatto mi sono dimenticato io di mettere dopo che avrete fatto questa sottospecie di gabbiotto ok potrete correrci dentro e saltare come dei pazzi all'interno questo perché il salto ovviamente vi porterà via un sacco di stamina ma essendo qui dentro potete veramente ripetere quest'azione andando a destra e a sinistra vedete mi da riposo e la mia stamina ritorna istantaneamente su andando a destra e a sinistra continuando a saltare la mia statistica di run e ovviamente anche di jump si alzerà come potete vedere qua bene l'ultima skill che dovremmo far salire è swim swim è un po più complicato quindi adesso ci spostiamo di casa perché dovremmo costruire un accrocchio esattamente sul bordo della casa della nostra isola in pratica dove c'è l'acqua benissimo rieccoci qui davanti al bellissimo mare dovremmo costruire una casetta di 4x4 quindi niente di particolare non state a svattervi più di tanto l'unica cosa che dovete fare è questa sottospecie di accrocchio ok che vedete qui perché all'interno ci sono delle scale che portano dentro il mare mettere il fuoco all'esterno perché non vi interesserà altro dovrete ovviamente avere come prima le diciture riposato a riposo fuoco eccetera eccetera questo per il semplice motivo che chiaramente noi dovremmo andare solo ed esclusivamente a metterci i piedi nell'acqua come vedete l'acqua sale e scende ed è quello che a noi ci interessa quindi noi dovremmo metterci in fondo alle scale come vedete io adesso non sto nuotando appena e mi dà soprattutto a riposo appena inizierà a alzarsi l'acqua noi potremo nuotare e soprattutto potremo riprendere la stamina ogni volta che l'acqua scende senza morire di conseguenza potrete ovviamente farla anche un po più larga senza stare lì a sbattervi più di tanto ma così facendo piano piano la vostra skill di nuoto chiaramente si alzerà ora la skill di nuoto non è fondamentale non vi serve se sapete utilizzare bene le navi e soprattutto se sapete posteggiarle nella maniera corretta vicino alle coste quindi vi basterà avere un po di stamina per arrivare sani e salvi dalla nave alla spiaggia dalla spiaggia alla nave però se volete far salire anche questa skill dovrete fare in questo semplicissimo modo bene io credo di aver detto tutto noi ci dividiamo nel prossimo video spero di esservi stato utile gg a tutti quanti